Buonasera Stefano, buonasera a tutti voi, partita in chessa al posto di Dragicevic dell'Alevo e Tommaso Fantoni, prima della partita abbiamo ascoltato gli allenatori, abbiamo parlato anche con Andrea Mazzona dell'importanza di avere un progetto, una continuità con questi di Team Bowers e di Simon Shevchik entrambi provenienti dalla Campania, Team Bowers, Dakas, Michelini invece l'elemento a sorpresa di della Stata Mondiale ONU, il mio ricordo delle vittime è la sala, unico tale per cambiare. Minuto di silenzio per la giornata mondiale nel ricordo delle vittime della strada, un'iniziativa questa su tutti i campi, un'iniziativa importante, quella che ci sarà qui al Lauretana Forum questa sera. Grazie a tutti.